In targa la festa dei circoli arci della provincia di Como, il link con questa sera il sabato 1 luglio alle 3 e mezza del pomeriggio c'è il Cobellosi processato perché ha tolto dei fiori dalla teca di Petanci e di Mussolini un altro processo strano, forse non è stato un processo ma indagini in corso e poi la festa dei arci da venerdì alla domenica, degustazione del gabbiano prenotatevi, grazie la festa dei arci si terrà a Senna, a Senna Comasco venite se potete